Frammenti di ossa e di abiti che potrebbero segnare una svolta nel caso del bambino casertano Pasqualino Porfidia, scomparso all'età di 8 anni. Sono passati ormai 24 anni quando il 7 maggio 1990, tra un gruppo di bambini che giocava a pallone, sparì proprio Pasqualino. Oggi, su istanza del PM Alessandro Di Vico, il GIP di Santa Maria Capoavetere ha riaperto l'indagine. Brandelli di vestiti e frammenti ossei, l'ispezione è stata stabilita con un decreto del capo della procura Currado Limbo. Gli investigatori sono cauti, non si può ancora parlare di ritrovamento e di soluzione del giallo. Il confronto del DNA darà la conferma che quei resti trovati in via Tevere e via Arno, in una della rete di quinicoli e di pozzi che collegano corsi d'acqua, appartengono proprio a Pasqualino. Oppure si dovrà ricominciare da capo, con una ricerca sulla quale soprattutto i genitori di Pasqualino non hanno mai messo la parola fine.